rieccomi miei cari amici buongiorno a tutti e in questo video vi mostrerò come piegare in maniera originale i tovaglioli per abbellire la tavola delle feste non accorrono grandi abilità anzi in pochi gesti è possibile abbellirla in modo originale per queste decorazioni andrò a utilizzare i tovaglioli di carta 25 cm x 25 cm voi potete utilizzare tranquillamente i tovaglioli più grandi o più piccoli in base alle vostre necessità e ora cosa aspettate buona visione un bacione a tutti ciao 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 ciao